Musica 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 Το πρώτο φεστιβάλ μαθητικής δημιουργίας μια ιδέα που ήρθε μετά τα μέσα της χωλικής χρονιάς και γι' αυτό ήταν λίγο δύσκολη η οργάνωσή της και η υλοποίησή της. però tutto ci credo che erbili alla fine, ci sono quella che finirà per aver fatto un un' retro per quanto tempo e per avere ancora più e più cose potrete Showi un' senza il rumore di rinca e ti vorrei vorrei una domanda noi vorrei armi appunto per il giusto e sulla Saliati e la Saliati per la pr saatizzazione, che derivrico. Signorale di cura diallenanza, la prima accontazione di ovariere, la pres fallo di riffare, il microfono, il microfono, la supplements delle altre persone. La scol grazie a tutti 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 grazie a tutti